Torino è stata per molto tempo la città del lavoro, mio padre in fabbrica, la vita di fabbrica, del lavoro, non solo negativo, anche positivo con il lavoro. Il sud è la gioia dell'infanzia, preferisco il rumore del mare, la mia vita è sempre separata in questi due mondi, l'impegno ma anche la voglia di potersi vivere in mezzo alla bellezza. C'è sempre questi due mondi, ma io penso che così è abbastanza una fortuna avere due possibilità, due direzioni della vita che si incontrano, si scontrano. Il nord, tutte le volte che anche adesso che vivo a Roma, torno al nord, capisco che è un'altra Italia, ci sono due Italia, le dico sempre, quella del nord e quella del sud.